Buongiorno, l'obiettivo di oggi è di montare Shiro Sirocco, questo ventilatore, sempre perché abbiamo paura di patire il caldo e quindi stiamo studiando come fare, come metterlo. E altro obiettivo, già che smontiamo tutto, è di installare delle griglie, delle griglie, preso d'aria per sfogare il calore del frigo. Quindi adesso smontiamo un po' di roba e cerchiamo di capire come fare. Svuotato lo stipetto, tutta la roba della cucina messa qui, c'era un po' di casino. Adesso, già che ci siamo, vedremo anche di fare un po' di repulisti. L'obiettivo è smontare questa parte qui sopra per capire come fare tutte le nostre installazioni. Abbiamo cambiato un po' idea, abbiamo deciso di mettere là nell'angolino il ventilatore e qui volevamo smontare tutto e tagliare il fondo del mobiletto per far uscire il caldo del frigo, ma abbiamo capito che è troppo complicato. E quindi abbiamo deciso di mettere solo delle griglie là sotto il ventilatore. Adesso continuiamo lo studio. A teorevo ancora fare tutti i cablaggi, però l'effetto estetico del ventilatore è questo. Non ci fa impazzire, ma ne abbiamo bisogno. Vi faccio vedere meglio la confezione di questo ventilatore che fa sia a 12 che 24 oltre, a 3 velocità e anche un timer. Acquistato anche questo su Amazon Italia. Dice ultra silenzioso e che consuma poco corrente. Speriamo. Il ventilatore è già cablato, bisogna solo fare attenzione di collegare il più con il più e il meno con il meno. Adesso ho preso la tazza per installare le grigliette del frigo. Tutti questi pezzi ce li siamo portati dall'Italia riempiendo una valigia di attrezzi. Primo foro fatto, io dovevo tenere l'aspirapolvere e non l'ho potuto registrare. Adesso siamo nei collegamenti. Ma Matteo non mi lascia mettere la GoPro dentro un mobiletto? O meglio la metto io o si mette la GoPro. La parte peggiore è rimontare tutto. Specialmente per te. No, io guardo, devo fare i video. Stai a rilontare i coglioni con quello a fare. Ultimo passaggio è incollarsi le dita col silicone per mettere le ventoline là. No, non sono ventoline, sono griglie. Le ventoline, ma vabbè. Ecco il ventilatore in funzione. Da dietro ci sono le griglie per il frigo. Il ventilatore si può regolare e ha tre velocità. Spento. Velocità 1. Velocità 2. Velocità 3. O Rilonti 6. O Rilonti 8. Velocità 3. Non si vabbè.